Che la prorompente Emilia Taikovsky avesse una predilezione per le arti performative c'era da aspettarselo. Se poi teniamo conto del fatto che ogni suo scatto sui social abbia il potere di incentivare il libero sfogo della creatività dei suoi follower, l'effetto virale è assicurato. Ecco che sul profilo Instagram della supermodella è apparsa una foto che la ritrae in pose statica come la Venere di Botticelli, l'istantanea è opera della fotografa Mona Kuni e ritrae la modella californiana in versione artistica, con una chiara ispirazione all'opera esposta presso la Galleria degli Uffizi di Firenze. Il post riporta la seguente didascalia, Birth of Venus la nascita di Venere, e strizza l'occhio all'opera d'arte rinascimentale. Emilia si mostra senza veli, coperta solo dal manto di capelli scuri, e alle sue spalle si intravede una verde vallata. Risultato? Su Instagram ha ottenuto 1,4 milioni di like e oltre 14 mila commenti. State già organizzando un viaggio per andare a vedere dal vivo il celebre quadro, vero? Del resto l'obiettivo dell'estare è anche quello di incentivare la cultura.